Piazzale, Primo Maggio e Via Tortora vanno riqualificate. I consiglieri di quartiere della lista Ascoltiamo Pesaro accendono i riflettori sulle richieste di attenzione dei residenti del centro storico su un'area ritenuta troppo spesso trascurata. Dopo un sopralluogo Ascoltiamo Pesaro ha portato in consiglio comunale la questione come interpellanza formalizzata dai consiglieri di Forza Italia, Lega, Prima Cepesaro e Fratelli d'Italia. Abbiamo rilevato delle problematiche importanti. La prima è lo stato di dissesto e di ammaloramento del silciato. I residenti ci hanno fatto presente che negli anni scorsi sono capitati diverse ipotesi di cadute sia per chi transitava a piedi sia per chi transitava in bicicletta e quindi questo mette a rischio chiaramente l'incolumità e la salute dei cittadini. Altra questione importante era lo stato di abbandono del parco e la carenza di illuminazione che quindi questo consentiva poi anche frequentazioni diciamo sospette. E un'ultima problematica non da poco è quella della sosta e del transito dei mezzi che chiaramente anche qui ha portato episodi di difficoltà nell'accesso dell'ambulanza oppure di parcheggi illegittimi nelle aree riservate alle persone con disabilità e quindi i cittadini hanno effettivamente queste sono le problematiche dei cittadini. Quindi abbiamo deciso poi di fare una raccolta firme, abbiamo raccolto un'ottantina di firme e le abbiamo consegnate ai consiglieri di quartiere che hanno poi presentato questa interpellanza in consiglio comunale per la riqualificazione del piazzale primo maggio. Da qui chiaramente questa interpellanza è andata in discussione lunedì scorso in consiglio comunale. Abbiamo avuto questa risposta dall'assessore Belloni. Questa amministrazione già dalla scorsa legislatura ha avviato un percorso di riqualificazione del centro importante, la via San Francesco, la pescheria, il corso, piazza Olivieri, piazza Mosca e non è che ci siamo dimenticati di piazzale primo maggio. Piazzale primo maggio è un anello cruciale di collegamento mare centro e il palazzetto dello sport quest'anno vedrà la luce e quindi diventa un punto strategico nella riqualificazione del centro storico e la nostra ipotesi parla di la piazza, piazzale primo maggio, la piazza vera e propria, l'area davanti all'ex carcere minorile e il palazzetto dello sport. Quindi il nostro progetto di riqualificazione lo vediamo in tre steppe e riguarda queste tre zone e l'ipotesi di intervento è quella di utilizzare il recovery plan ovviamente in prima battuta. In seconda battuta qualora non arrivassero le risorse o non fossero necessarie per prevedere la riqualificazione di questo luogo strategico del nostro centro storico sicuramente andremo a recuperarle nelle risorse del nostro bilancio. Quindi il nostro obiettivo tra il 21, il 22 e il 23 è di dare una risposta anche su piazzale primo maggio. Ascoltiamo Pesaro si è detta soddisfatta delle rassicurazioni dell'assessore Belloni però esterna anche preoccupazioni sulla tempistica. La cosa però che ci preoccupa è la seconda parte della risposta dell'assessore Belloni circa i tempi e le modalità di questo di questo intervento. Sui tempi l'assessore sostiene che sono in cantiere tre tipi di stralci di intervento. Il primo che riguarderebbe il palazzetto dello sport, il secondo riguarderebbe invece l'ex carcere minorile e da ultimo piazzale primo maggio. Quindi vista la necessità degli interventi questo chiaramente la tempistica ci preoccupa perché riteniamo che degli interventi immediati si possano fare, quali quello dell'illuminazione pubblica che deve essere più adeguata alla zona e anche quello di un controllo più assiduo circa questo transito e questo parcheggio selvaggio nella zona. Questo consentirebbe un intervento immediato anche con una spesa minima. E l'altra cosa che ci preoccupa è l'impiego del recovery plan per questo tipo di intervento, già che sappiamo tutti che il recovery plan si utilizza per progetti strategici del paese e quindi che di rinascita del paese chiaramente questo non può sminuire diciamo l'importanza dell'area e della riqualificazione, però sarebbe sicuramente più adeguato un intervento di investimento dell'amministrazione comunale che per la riqualificazione di quest'area.